Un mimico bobocco a tutti, ho preso, ho comprato il DLC Revolution e quindi vorrei giocare col pacere Poco fa avevo terminato di registrare un video nel quale io giocavo col pacere Come vedete in meno di due partite ho sbloccato già qualche accessorio, anche una mimetica Devo dire che con questo pacere gli headshot vengono fatti un pochettino in maniera più semplice Piuttosto che andare a giocare una mappa del DLC vorrei provare a giocare un deathmatch normale con il pacere Per vedere se io sono davvero avvantaggiata con gli altri che non usano quest'arma Oddio c'è un bimbetto che... Oddio un bimbetto, uno dei pochi che becco su PC Ma va bene bimbetto, ti ho mutato Come dicevo, ho voglia di provare il pacere su una mappa normale Per vedere davvero se sono più avvantaggiata degli altri che non hanno quest'arma Perché vi è detto che... Cioè c'è da dire che un'arma non è tanto male come arma Cioè a me piace come arma Però piuttosto che definirla mitraglietta, cioè sembra un'arma bastarda Perché c'è un mirino tipo fucile d'assalto Però poi in sé per sé spara veloce con una mitraglietta O no? Vabbè Comunque un po' riduttivo secondo me chiamarla mitraglietta Direi una mitraglietta bastarda perché è una fucile... Cioè sembra quasi un fucile d'assalto Ma va bene Ok io c'ho la mia classe C'ho il pacere Probabilmente non userò mimetiche perché non so se ci stiano bene le mimetiche con quest'arma Allora siamo in plaza Ok mi ricordo questa mappa Ok bene Ho prestigiato ieri Quindi Sì non sono tanta vantaggiata Quella era un abetto Vabbè Comunque è un abetto che gioca col mirino aperto Non so se l'avete notato Io l'ho notato Va bene Proviamo l'arma Oh Dio Dio C'era uno sdraiato Ok Muori Vabbè Che poi secondo me l'arma più forte del gioco è l'ultimo fucile Cioè non l'arma più forte del gioco Non esce Comunque secondo me L'arma che può essere definita davvero molto molto potente È l'ultimo fucile d'assalto Che cacchio Chi è che mi spara Non c'è È l'ultimo fucile d'assalto Dai Non muore Non muore È questa arma qui Cioè pure senza il silenziatore Secondo me è molto molto forte Quella lì Vabbè Proviamo il suo cacchio di paciere Double Vedete i colpi di testa io li faccio pure senza un po' culo Quello è il master prestigio che mi ha ucciso prima Ok se ne arrivavo con lo stronzo da dietro Probabilmente lo killavo a quell'altro Sì è fortissima come arma Dai raga Però io non mi ci trovo molto a giocare Mi ci devo abituare Ci devo abituare Oddio Che laggata Sono io O non sono io Non credo di essere io a laggare così È lost Vaffanculo Mi sa che devo togliergli il silenziatore Però se li tolgo il silenziatore Non è più una mitraglietta Cioè poi non è più una mitraglietta Oh ma vuoi morire o no O cosa Madonna Non mi muore Non mi muoiono Spari al muro tu Ma Dai paciere Dai ma questi non muoiono Gli sparo tutto un caricatore addosso Ma non mi muoiono Non mi muoiono Eh che cazzarola Porca cazzarola Cazzarola Perché pizza T'ho visto Perché sei una feccia Sei una feccia Schifosa Esci fuori con la testolina Oh Perché non è Era morto Però c'era l'altra merda Dietro Sto cominciando ad arrabbiare Non mi piace St'arma Perché lo bici trovo Ovviamente Perché lo non mi piace Appena ci faccio La mano La mano sopra Cioè Appena ci prendo un po' di confidenza Via È morto quello Sì l'avete killato Ma dai Non riesco a sparare Velocemente Con quest'arma Questo non è una mitraglietta Questo è un fucile d'assalto Che io non mi piacciono A me i fucili d'assalto Questo non è una mitraglietta Questo è un fucile d'assalto Sto facendo schifo Dai Dove sono le caccoline? Via Vale Via Mamma mia che fuggita Vale show Ok Abbiamo perso lo stesso Pure se ho fatto un po' di scenate Vabbè ragazzi Non so se sia davvero un'arma Che dia vantaggi Ma non credo Vabbè Spero che questo video Col pacere Mi sia piaciuto Ho sclerato un po' Raga Io non la riescusare Non riescusare il pacere Come un'arma Diciamo Tra virgolette Normale Cioè Non riesco a usarla Come una mitraglietta Mi sento un po' impedita Quando l'utilizzo Forse sarà perché Non Non c'ho confidenza Perché sarà una nuova arma Che ho tra le mani Non lo so Comunque tutto sommato Tutto sommato La partita Non è andata Tanto male Ho sclerato un pochettino Comunque questo dimostra Che Come ho detto Tutto sommato Non è che sia un'arma Così che dia Chissà che vantaggi E quindi Boh ragazzi Prima partita Col pacere Su una mappa Diciamo Usciamo Su una mappa Diciamo Aperta a tutti Quindi Come vedete Mi killano Mi killano lo stesso E appunto Ci devo fare un po' La mano Con quest'arma Bene ragazzi Al prossimo video Fatemi sapere Se vi andrebbe Che io Facessi un video Con la webcam Anche un live Col paciere Non lo so Su qualche mappa Fatemelo sapere E al prossimo video Ciao